buonasera amici di nova news 24 la finalissima del grande fratello vip che si svolgerà il 3 aprile vede l'ultimo finalista illizza parliamo di alberto de piscis oppure milena miconi analizziamo i due personaggi se alberto è un personaggio veramente introverso particolare che non ha ricevuto nella casa tantissime sorprese ha però avuto i consensi per poter approdare fino a qui e ieri ha vinto il televoto proprio contro luca onestini che ha dovuto abbandonare la casa del grande fratello vip quindi un alberto de piscis che sta sicuramente guadagnando consensi e nella finalissima potrebbe essere lui una delle sorprese ma attenzione amici di nova news 24 vi ricordiamo che milena miconi se l'è scampata tante volte al televoto anche ieri sera riuscita a rimanere salda la sua poltrona nella casa del grande fratello vip a non uscire e questo sicuramente un vantaggio sono due personaggi molto forti per ora però i sondaggi danno il vantaggio di alberto de piscis ovviamente più amato dal pubblico un personaggio che si espone sicuramente poco ma non pochissimo a differenza di milena miconi accusata molto spesso di essere poco chiara nelle sue esposizioni molto signora sicuramente molto predisposta per la cura della casa e della persona ma sicuramente poco giocatrice questo ad alcuni concorrenti sicuramente non va giù ecco perché milena miconi è sempre stata in nomination e se l'è scampata già un paio di volte ieri sera andrea mestrelli è uscito proprio a confronto con milena miconi andrea mestrelli ovviamente aveva molti consensi più bassi rispetto a milena miconi però lei potrebbe essere la vera sorpresa di questo grande fratello vip a arrivare almeno in terza posizione anche se i sondaggi la danno quasi per spacciata però potrebbe essere la vera sorpresa della finale del grande fratello vip vi diciamo amici di nuova news 24 vi scegliete voi tra alberto e milena intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24